Ben ritrovati cari amici del canale YouTube, ben ritrovati a tutti, un caro saluto da parte mia a tutti voi. Oggi giovedì 28 marzo è il giorno del ritrovo di tutti i giocatori del Milan al centro sportivo rosso-nero di Milanello. Per la prima volta, pensate, in queste due settimane oggi, per la prima volta Stefano Pioli avrà tutta la squadra a disposizione, tutti i nazionali che rientrano dai rispettivi impegni con le varie nazionali. Quindi solamente a due giorni di distanza dalla partita contro la Fiorentina, secondo me di questo Pioli ne terrà conto, quindi evidentemente farà anche delle scelte in base allo stato di forma di alcuni giocatori. Purtroppo non ci sarà Teo Hernandez per questa comunque non facile, non semplice trasferta di Firenze, però al suo posto dovrebbe giocare Florenzi, Teo Hernandez che è squalificato. In questo video facciamo un po' un punto sulla situazione Camarda, ho visto che in tanti ne stanno parlando, hanno anche fatto molti di voi tifosi domande su Camarda sotto gli altri video, quindi cogliamo l'occasione per fare il punto su Camarda. Vi dico già che c'è il suo entourage che è furibondo, che è infuriato e vi spiego anche il motivo. E poi parliamo anche delle parole del capitano del Milan, Davide Calabria, perché parla di derby. E si sta avvicinando anche il derby, quindi parleremo anche di quello. Innanzitutto però vi chiedo di lasciare un like, ma soprattutto iscrivervi al canale, iscrivetevi, non fermatevi, andiamo avanti così. Partiamo da Camarda. Camarda pochi giorni fa, il 10 marzo, ha compiuto 16 anni, quindi da quella data in poi avrebbe e potrebbe firmare il suo primo contratto da professionista. Il Mian, insieme al suo entourage, non hanno ancora trovato il momento giusto per fargli firmare il contratto e ci sono diversi motivi. Secondo quello che filtra dall'entourage di Camarda, non è assolutamente vero che il contratto fino ad ora non è stato firmato a causa delle commissioni. Anche perché, e lo sappiamo già da tempo, la regola per quanto riguarda gli agenti vieta agli agenti di prendere commissioni per i giocatori ancora minorenni. Quindi finché i giocatori non compiono 18 anni, non possono i loro agenti ricevere delle commissioni. Quindi subito vengono spazzate via quelle voci che vedono gli agenti dei giocatori, ma soprattutto in questo caso di Camarda, addirittura chiedere 10 milioni di euro, anche perché il Mian deve giustificare questa spesa, a bilancio lo deve scrivere, cioè non è che possono sparire questi 10 milioni a bilancio per gli agenti di Camarda, cioè bisogna anche specificare dove vanno a finire i soldi. Quindi tecnicamente è complicato pagare un agente in questo senso e per questo loro tra l'altro lo sanno e non vanno a chiedere 10 milioni. Discorso diverso, e attenzione, sull'ingaggio. L'ingaggio di Camarda potrebbe essere abbastanza alto e sull'ingaggio secondo me che si gioca la partita, non sulle commissioni, perché le commissioni gli agenti non le possono ricevere, però l'ingaggio al giocatore può essere più alto e magari la richiesta di ingaggio di Camarda è alta rispetto all'età del giocatore. Questo sì, questo è legale, anche la richiesta. Ecco, però loro sono furibondi e smentiscono categoricamente coloro che hanno scritto o che hanno detto, non ho controllato le fonti, ma gira, circola questa voce, di una richiesta da 10 milioni di euro di commissioni. Su questo sono davvero incavolati, sono furibondi, lo staff e l'entourage di Camarda smentisce categoricamente questa cosa, sull'ingaggio invece secondo me le richieste sono abbastanza alte. Quindi la partita si giocherà sull'ingaggio. Però cosa dicono dall'entourage di Camarda? Dicono che prima di affrontare l'argomento economico per loro è importante il progetto. Loro vogliono sapere chi sarà l'allenatore della prossima stagione, se Stefano Pioli o un altro allenatore, chi sarà il coordinatore per esempio di un eventuale progetto della seconda squadra, dell'Under 23, chi è che va a trattare con i giovani lo stipendio, l'ingaggio, o comunque chi è che fa mercato nel settore giovanile, se ci saranno ancora gli attuali dirigenti, verso quale direzione va il progetto tecnico del Mian. Insomma sono queste le domande che si pone l'entourage di Camarda. E' anche vero, e questo bisogna essere onesti nel dirlo, che lo fanno perché alle spalle ci sono diverse richieste. richieste intese come offerte da parte di club stranieri. Quindi è anche vero che probabilmente loro si permettono di essere un po' più puntigliosi nel chiedere al Milan garanzie sul progetto, sul futuro tecnico della squadra, perché alle spalle hanno magari il Borussia Dortmund, hanno magari squadre come il Manchester City, Manchester United, anche se, anche qui bisogna ricordarlo, Camarda non potrebbe giocare in Premier League finché non compie 18 anni, a meno che uno dei due genitori si trasferisca addirittura in Inghilterra e cominci a lavorare lì. Quindi insomma ci sono sempre gli escamotage, però la legge dice, la regola dice che Camarda non può giocare in Premier finché non fa 18 anni. Quindi anche qui dovrebbe essere addirittura parcheggiato in un club satellite, non proprio il massimo per un ragazzo. Ecco, chi si aspettava invece una firma immediata al 10 di marzo, al compimento dei 16 anni, è rimasto un po' deluso. Già leggo infatti dei commenti dei tifosi che dicono, sì, ma qua parliamo di un ragazzo di 16 anni, la prima cosa dovrebbe essere firmare per la squadra per cui tifa, perché comunque Camarda è un tifoso del Milan, e non pensare ad altro. Però oltre al pensiero del giocatore, singolo giocatore, c'è anche tutto un movimento dietro di lui, un entourage che comunque magari prova anche a strappare il massimo delle condizioni economiche per il giocatore. Ribadisco non per le commissioni, ma per l'ingaggio, perché finché non fa 18 anni le commissioni, gli agenti non le possono ricevere secondo le regole. Ha parlato anche Davide Calabria, che è il capitano del Milan, ha detto una frase, lui dice, sullo scudetto all'Inter nel derby, questa ossessione che tutti ribadiscono, cioè che l'Inter possa vincere lo scudetto nel derby contro il Milan, in casa del Milan, Calabria risponde, è ancora presto, ce ne sono di partite prima del derby, ma noi le vogliamo vincerle tutte, quindi non accadrà. Questo quindi non accadrà potrebbe essere un'arma a doppio taglio, probabilmente io non avrei risposto in questo modo, e ora tutti i tifosi sperano, si augurano che non accadrà, perché poi se dovesse accadere, oltre ad essere sbeffeggiato Calabria per questa sua dichiarazione, sarebbe anche duro da digerire per tutti i tifosi del Milan, la vittoria del derby, proprio in casa dei rossoneri. Detto questo, Calabria poi ovviamente parla anche di altri argomenti, dice sul campionato, noi lo vogliamo vincere, bisogna essere lucidi ed essere chiari, e dire che l'Inter sta facendo un campionato fuori dal comune, dice Davide Calabria, capitano del Milan, intervistato dal radio Lega SRA, bisogna essere onesti con noi stessi, e con tutti, e dire bravi per quello che l'Inter sta facendo, il nostro campionato lo stiamo facendo alla grande, abbiamo il ritmo dello scudetto, l'obiettivo era fare meglio possibile, e dal punto di vista numerico stiamo facendo il meglio possibile, c'è da dire che il Milan attualmente, ha solamente un punto in meno rispetto all'andamento che aveva avuto nell'anno dello scudetto, quindi più o meno siamo in linea, addirittura ha otto punti in più rispetto all'anno scorso, è l'Inter che ha troppi punti in più, e questo è il pensiero di Davide Calabria, dice il nostro percorso lo stiamo facendo, abbiamo lo stesso ritmo dell'anno dello scudetto, con in più l'Europa League, mentre nell'anno dello scudetto il mio non aveva l'Europa League, neanche la Champions, era uscito dall'Europa, però è l'Inter che sta facendo troppo bene, e quindi complimenti all'Inter, sullo scudetto dell'Inter nel derby dice, non accadrà, ce lo auguriamo, lo speriamo anche per, immagino sia un augurio e un auspicio di tutti i tifosi rossonieri nel mondo, ci sentiamo e ci vediamo dopo, un abbraccio a tutti, ciao!